Il Comune di Pescara alza il tiro, aumentando l'importo da destinare alla ditta che si aggiudicherà i lavori di bonifica dell'area di risulta. Da 2 milioni 800 mila euro previsti nel primo bando andato deserto a 3 milioni 950 mila euro. Il nuovo annuncio pubblico è già pronto e dentro fine mese dovrebbero essere affidati i lavori alla ditta che deciderà di rispondere alla chiamata del Comune di Pescara per ripulire il terreno su cui dovrà essere realizzata la nuova sede della regione Abruzzo, unitamente a parcheggi e parco, per un importo complessivo quantificato in circa 16 milioni di euro. Perché il progetto si concretizzi occorre però prima ripulire l'area, inquinata da rifiuti intrappolati nel sottosuolo che l'Arta ha prelevato e catalogato. Oltre 30 mila metri cubi di terreno che dovranno essere rimossi dall'impresa specializzata che risponderà al bando di gara, come spiega al Tg8 il sindaco Carlo Masci. Sono lavori che ci consenteranno di andare avanti con gli interventi nell'area di risulta, cioè la realizzazione del parcheggio e del parco nella zona sud. Il parco di 6 ettari e mezzo che oramai tutti i cittadini aspettano da almeno 26 anni. Interverremo con la bonifica, abbiamo dovuto predisporre dei nuovi atti di gara, aumentando l'importo a 3 milioni 950 mila perché ci sono circa 30 mila metri cubi di materiale che deve essere portato in parte a discarica e in parte rilavorato per renderlo pulito e utilizzabile. Sono lavori prodromici a tutti gli interventi che si dovranno fare sull'area di risulta. Oggi siamo arrivati, il passaggio è fondamentale. Entro qualche giorno avremo la ditta che si sarà aggiudicata la gara, credo entro fine mese. Poi i lavori dureranno circa 180 giorni, ma ci auguriamo che possano essere svolti in tempi più brevi. Tutto dipenderà dalla verifica sul posto perché sono stati fatti almeno 70 saggi insieme all'Arta per verificare le condizioni del terreno. Non dimentichiamo che quell'area è un'area dove c'era la stazione ferroviaria, quindi ci sono stati mezzi, è stata utilizzata e sfruttata in ogni maniera. Però noi siamo determinati per raggiungere questo obiettivo importantissimo per la città di Pescara, anche perché abbiamo in quell'area 30.000 metri cubi di inquinanti che non sono pericolosi, ma sono sempre inquinanti. Quindi dobbiamo eliminarli finalmente, dico io dopo 26 anni. L'obiettivo oramai lo raggiungeremo in tempi brevi adesso. Io mi auguro di far partire anche il parcheggio lato sud prima della fine della Consigliatura, in modo che potremo dire che anche l'area di risulta ha preso il suo slancio per arrivare a realizzare questo meraviglioso parco di 6,5 e che tutta la città aspetta.